Bene, abbiamo incontrato il presidente di Gaia insieme allo staff tecnico qui nel nostro comune per fare un po' il punto sulla situazione che riguarda la rete acquedottistica e gli interventi che sono in programma sul nostro territorio. Investimenti assolutamente anche importanti sotto l'aspetto della dimensione economica perché parlare di investimenti di milioni di euro che riguardano il territorio di Mulazzo, dalla nuova realizzazione della rete idrica che permetterà di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione con oltre 3 milioni di investimento è una bellissima notizia ma che ci mette anche nelle condizioni di comprendere che non sarebbe stato mai possibile per un'amministrazione piccola come questa. Quella del comune di Mulazzo ma di nessun comune poter affrontare. Grazie al soggetto gestore questo è stato possibile perché poi si è potuto anche intercettare dei finanziamenti come quelli del PNRR. Altrettanto interessante sarà poi anche l'intervento altrettanto importante e imponente sotto l'aspetto sia della dimensione economica sia della dimensione tecnologica che riguarderà il miglioramento della nostra rete di depurazione e di realizzazione della nuova fognatura di Arpiola e Mulazzo. Sì, innanzitutto ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale. Negli ultimi anni c'è stato veramente un rapporto di collaborazione molto importante che ha portato oggi a illustrare investimenti per il prossimo futuro veramente importanti come ha anticipato il sindaco. Un tema molto importante è quello dell'emergenza idrica. Oggi abbiamo presentato un investimento di più di 3 milioni di euro che è in fase di gara d'appalto. Un progetto che è finanziato dai fondi PNRR che prevede una ristrutturazione complessiva del sistema acquedottistico del comune di Mulazzo. Un investimento strategico come sono strategici tutti gli altri investimenti che stiamo portando avanti nella lunigiana per fronteggiare il tema dell'emergenza idrica. Un investimento strategico come sono strategico come sono strategici tutti gli altri investimenti che stiamo portando avanti.